Siamo qua per parlare della lotteria di Pasqua, che è un'attività che ormai è giunta al secondo anno e abbiamo già degli ottimi risultati come vendite di biglietti, ma soprattutto siamo qua con le due realtà a cui noi devolveremo una parte dell'incasso che ci seguono e che noi seguiamo costantemente. Questo appunto da due anni. Sia l'SD Olympic Basket, che tra l'altro si è appena qualificato ai play-off, che è l'Associazione Liberi di Crescere di Palermo, sono due partner a tutti gli effetti. Oggi volevamo con loro parlare di quella che è la lotteria di Pasqua. Stiamo andando molto bene, ci sono tantissimi premi in palio dei nostri partner, dai buoni che Conad ci ha gentilmente regalato, al viaggio a Malta che è il primo premio, smartphone, macchinette del caffè e quant'altro. Quindi invitiamo tutti a partecipare e acquistare i biglietti al Palaconad. La Palacanese a Trapani è una città che io ho sempre definito molto dinamica, presente sul territorio non solo nella proposta cestistica che facciamo chiaramente tutte le domeniche, ma presente anche per quelle che sono le attività che partono dal settore giovanile, che partono con una collaborazione, diremmo, fitta con il nostro territorio. Direi che il prossimo passo sarà quello di intensificare ancora quelle che sono le nostre attività. Il palaiglio innanzitutto sta diventando sempre di più un'attività a 360 gradi. Abbiamo da poco chiuso una collaborazione che farà sì che aprirà lo spazio dell'area fitness all'esterno. Direi che il nostro punto ristoro sta già funzionando molto bene, così come tutte le attività collaterali. Quindi Palacanestro non solo Palacanestro, secondo me questo deve essere il nostro motto, ma soprattutto deve essere avvicinare persone a noi. La Palacanestro è e rimane il nostro fiore all'occhiello, ma chiaramente siamo, ripeto, un'attività che cerca di creare spettacolo e quindi abbiamo bisogno sempre di più di creare sinergia con il nostro pubblico.